Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, diretti dal Vicequestore Giuseppe Fedele, hanno arrestato Nicola D'Amato, Nicola e Pasquale Marini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per D'Amato si è aggiunta anche la resistenza pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione della Polizia giudiziaria, in seguito ad un controllo alla circolazione stradale, i pusher sono stati trovati in possesso di sei dosi di cocaina, cinque dosi di eroina ed un pezzo di asci di circa sei grammi. Nel corso del controllo, Nicola D'Amato ha tentato di aggredire ripetutamente i poliziotti. Questi arresti si inquadrano nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Questore di Salerno, finalizzati anche al contrasto dell'immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.